Con il campionato di calcio parte la stagione 2015-2016 dello sport che si presenta ricca di grandi sorprese e anche di grandi emozioni da vivere tutte d'un fiato. Anche la redazione sportiva di Speciale News ritorna con i suoi tre tradizionali appuntamenti a partire da questo che vedete con il settimanale che da quest'anno passa sotto legida della testata Sport Report. La storica testata Radio Sport va dunque in pensione dopo tanti anni ma di certo non cambierà la nostra voglia di informare a 360 gradi su tutti i grandi eventi nazionali ed internazionali ma anche con uno sguardo particolare alla Puglia, ai campionati di basket e di pallavolo che soprattutto per le squadre di Cilignola vivono un momento straordinario. Molte saranno a livello nazionale per cui ci sarà sicuramente da divertirsi. Per parte nostra garantiamo con i nostri tre appuntamenti la possibilità di mantenervi sempre informati a 360 gradi nel cuore dello sport.